Annunci di nuove chiusure, passi indietro, visioni differenti fra poteri locali e dello Stato. C'è un clima di incertezza che danneggia soprattutto quei settori che devono programmare a lungo termine le loro attività, come il turismo. Agostino Ingenito, responsabile della Cisa al Turismo Salernitana, torna a lanciare l'allarme sui rischi della tenuta del comparto in relazione ai rischi di nuove restrizioni. Abbiamo chiesto che il nostro settore venga sostenuto come tutta la filiera turistica che avrà ripercussioni gravi anche per il prossimo anno. Chiediamo un sostegno per i lavoratori stagionali che da tanti mesi non hanno più alcun reddito e sembrano davvero vacue e poco sostanziosi i contributi previsti da alcuni enti come l'ente bilaterale. In alcuni casi questi lavoratori non hanno neanche la possibilità di accedere alla Naspi. Altro problema serio è quello legato agli imprenditori del settore extraalberghiero. Bed and breakfast, fitta camera ed indotto decine di migliaia di attività in campania e moltissime nel Salernitano che vengono fuori da un periodo difficile e che potrebbero non sopravvivere ad un'altra stretta. Per loro al momento non c'è nessun ammortizzatore sociale, dice sempre Ingenito. Serve riorganizzare l'attività dell'immobiliare ricettiva, garantire maggiori e diffusi sostegni. Si può fare con alcune iniziative in collaborazione con gli enti, mi riferisco agli accordi territoriali, al sostegno della filiera anche con iniziative di defiscalizzazione, contributi e sostegno. Quello che è certo è che il turismo è totalmente annullato e questi annunci non fanno altro che incidere ulteriormente. Serve un'azione forte che naturalmente tenga conto prima di tutto della tatella della salute dei cittadini, ma a questo devono essere affiancati aiuti concreti per mantenere la situazione. Ci sono migliaia di famiglie che vivevano solo di turismo, soprattutto stagionale e che senza alcun incentivo e con un lockdown rischiano la fame.